Magari non tutto andrà alla perfezione, ma la regione toscana non è arrivata tardi alla data del ritorno in classe, che ad oggi sembra confermata e segnata a rosso sul calendario del 7 gennaio. Dopo che la Befana a tutte le feste si porterà via per i nostri studenti, seppure al 50%, ci sarà l'atteso ritorno sui banchi. Atteso perché quei banchi sono vuoti da troppo tempo. I ragazzi devono andare a scuola, noi speriamo in una scuola tutta in presenza, ma intanto il 7 gennaio la Toscana è pronta ad accoglierli al 50%, così come stabilito dal governo. Questo è il commento del presidente della regione toscana Eugenio Gianni. La Toscana si farà trovare pronta insomma all'appuntamento con la ripartenza, grazie alla schiera di nuovi mezzi di trasporto che andranno a servire i vari istituti scolastici regionali. 329 in più si aggiungeranno alla flotta del servizio ordinario. Da mesi si sono costituiti tavoli provinciali per analizzare criticità e risolverle in vista della riapertura imminente e da tempo è stato annunciato un sistema di monitoraggio che si avvarrà di tutor per gestire i flussi in salita e discesa dai mezzi. Si chiama Tia Compagno e si candida ad essere un modello per l'organizzazione del trasporto pubblico scolastico su grande scala. Non solo, punto di forza del piano per la scuola sicura della regione è il confronto costante con tutte le parti coinvolte. Con i rappresentanti delle province e con i membri degli uffici preposti ad occuparsi di TPL ci incontreremo ogni giorno, anche più volte al giorno se necessario, per fare il punto sulla situazione. Ha aggiunto l'assessore regionale alla mobilità Stefano Baccelli. Il 7 gennaio metteremo in campo tutto. I 2.700 bus ordinariamente a disposizione dell'azienda di trasporto locale della Toscana, che ringrazio, ovviamente riorganizzate allo scopo. I 329 bus aggiuntivi che mettiamo come regione ci saranno, grazie all'indirizzo del Presidente Gianni, e questa volta rimborsati integralmente dallo Stato, una battaglia politica e amministrativa che abbiamo vinto in questi giorni. Quindi oltre 3.000 bus a servizio dell'obiettivo comune. E questa squadra di prefetti, aziende di trasporto, province, assessori, Presidente Gianni in testa, con un unico obiettivo, riportare in sicurezza i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado nel tratto tra la scuola e la casa, tra la casa e la scuola. Ma abbiamo fatto qualcosa di più. Ci siamo posti la questione di dare un nostro contributo anche, non solo all'interno dei bus, ma in quei tratti tra la fermata del bus, la fermata della stazione e la scuola. Non una diretta competenza della regione, perché non è competenza della regione, una piazza, un cortile davanti a una scuola, una resede di una fermata del bus. Lo abbiamo fatto con questo progetto innovativo, il progetto che accompagno. 500.000 euro destinati a questo, mentre 4 milioni di euro sono destinati a quei 329 bus aggiuntivi. I nuovi mezzi saranno così suddivisi. 47 nella città metropolitana di Firenze, 46 nella provincia di Arezzo, 40 nella provincia di Siena, 36 nella provincia di Grosseto, 35 a quella di Lucca, 32 nel Pisano, 31 nella provincia di Livorno, 24 in quella di Pistoia, 23 in quella di Prato e 15 nella provincia di Massa Carrara. Il vero obiettivo era dar subito mondo di costituire i tavoli provinciali, che poi sono stati copiati virtuosamente dal PCM del 3 dicembre su scala nazionale. Perché ci siamo resi conto per tempo che una cosa è la città metropolitana di Firenze, un'altra è una provincia come quella di Lucca, quella di Pistoia che è montagnosa, un'altra è la realtà Livornese, piuttosto che Aretina e via così. In alcuni casi quindi, ma la verifica è stata puntuale ed è stata da parte dei presi, degli uffici scolastici territoriali, delle aziende di trasporto sul territorio, dei prefetti, dei presidenti della provincia. Laddove si riteneva utile e necessario uno scaglionamento, è stato realizzato nel progetto specifico lo scaglionamento. Laddove era meglio tenere dei punti fermi, è stato scelto di tenere i punti fermi. Noi abbiamo raccolto questi 10 documenti operativi davvero fatti molto bene e forgiati sulle dimensioni, sulle necessità della comunità scolastica e del trasporto pubblico locale in quella località.